Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di due prodotti senza i quali non riesco più a vivere della mia skin care routine, quindi della mia routine quotidiana per quanto riguarda la parte notte che sono dei prodotti della Kiehl's, un brand che io adoro. Quando vivo a Londra avevo l'opportunità di provare molti prodotti perché una delle mie amiche lavorava appunto per Kiehl's e quindi ho imparato ad apprezzare i loro prodotti. I due prodotti di cui vi parlerò sono il Midnight Recovery Eye, che è questo qui, una crema con tornocchi e il Midnight Recovery Concentrate, che è questo qui. La crema con tornocchi in un formato di 15 ml ma vi dura davvero tantissimo perché ne basta molto poca. E invece questo concentrato, olio e ha il contagocce. Ne bastano infatti solamente 4 gocce ogni volta che lo utilizzate. Adoro questi prodotti perché ultimamente sto apprezzando molto le cose biologiche, naturali e diciamo che sono sempre stata appassionata di cosmetici in generale, creme e ho sempre fatto delle ricerche prima di comprare qualsiasi cosa. È da un po' di tempo che uso questi due prodotti e anche usando altre cose sperimentando altri prodotti, davvero non riesco a sostituirli. Vi spiego anche il perché. Questo concentrato è un elisir rimpolpante di oli essenziali puri ed estratti botanici che va a rimpolpare la pelle e la fa apparire più giovane e nutrita la mattina, il giorno dopo che l'avete applicata. La crema occhi fa lo stesso effetto, è molto leggera, si assorbe subito, ma vi dà un effetto super idratante immediato. Volevo leggervi un po' gli ingredienti che ci sono in questo siero, che è ottimo per pelli secche e disidratate ma davvero io l'adoro su tutti i tipi di pelle, anche se avete la pelle grassa basta metterne davvero poco e i risultati saranno ottimi. Tra gli ingredienti del prodotto troviamo lo squalene, che è un lipido di estratti botanici simile alla struttura lipidica della pelle, quindi molto molto idratante e rimpolpante. In più è pieno di omega 6 e contiene anche estratto di rosa canina, olio di lavanda che io adoro sia per l'odore sia per le proprietà perché è lenitivo, anti arrossamento, idratante, emolliente e potrei andare avanti perché la lista è infinita. Contiene olio di jojoba, olio di coriandolo, olio di rosmarino, estratto di cetriolo, estratto di curcuma, gelsomino e vi ho citato solo alcuni degli ingredienti. Io quando lavoravo a Londra, vi parlerò in un video più in là se mi interessa anche della mia esperienza, ho vissuto tre anni a Londra, ho fatto tanti lavori, tra cui anche quello di lavorare per Lush che è stato uno dei lavori più belli che abbia mai fatto, insieme a quello da MAC sempre a Londra, quello a Disneyland, ci sono dei lavori che mi sono rimasti impressi sia per l'azienda, che ho incontrato, per il lavoro che facevo. Lush è uno di quei lavori. Lavorando da Lush la loro etica è quella di farti scoprire il prodotto, di fartelo toccare, fartelo testare e io infatti sono andata anche a Paul, che è la sede dell'azienda in Inghilterra e ho passato due giorni nell'azienda di Lush proprio a fare i prodotti insieme a loro perché avevo vinto una competition con una mia collega e siamo partite per andare a fare questo sopralluogo all'azienda. Quindi mi sono appassionata già da allora agli ingredienti del prodotto, a sapere la storia dei prodotti, a cosa servivano i vari ingredienti e da Lush loro puntano molto sul trasmettere al cliente quest'etica dei loro prodotti, molti prodotti sono fail trade, del commercio ecosolidale e quindi avendo questa impronta, avendo lavorato per loro ho imparato a leggere l'etichetta dei prodotti, ad apprezzare i prodotti e a sapere anche quello che fanno. Ritorniamo a Kills perché io quando parlo vado on e on e on quindi vi stavo parlando della crema occhi e del siero per il viso. Mi piacciono questi prodotti perché vi ho citato i numerosi ingredienti che contengono. Sono tutti ingredienti che vanno a stimolare la pelle, la schiariscono se avete macchie cicatrici, la idratano, la purificano, la rendono più soffice al tatto e la vanno proprio a rimpolpare. Tutti questi ingredienti messi insieme danno una bomba di vitamine alla vostra pelle, quindi la mattina quando vi svegliate vi trovate questa pelle fantastica e io avevo sentito varie recensioni su questi prodotti, avevo letto sul giornale, amiche che me ne avevano parlato, però dicevo sempre bah magari non so, ognuno è diverso, a me non piacerà, invece l'ho provato. È un prodotto che adoro, lo consiglio a tutti, non sto mai senza e ragazze vi dura una vita, 35 euro se non sbaglio qualcosa in più, ma vi dura veramente, non voglio esagerare un anno ma forse più di 6 mesi. L'ho comprato 3 mesi fa e non so se riuscite a vedere in camera, ma davvero ne ho usato pochissimo, si vede un po'. Sì, perché appunto bastano 4 gocce, un lato della faccia e l'altro, lo andate a massaggiare e ad estendere verso l'esterno così, così andate a stirare il viso e a farlo assorbire nella pelle e si assorbe subito, è leggero, non vi svegliate con la faccia unta, è davvero un ottimo investimento, sia per gli ingredienti, per la vostra pelle, per il brand che è un ottimo marchio di cosmetici, niente, spero di avermi trasmesso un po' di entusiasmo per questo prodotto, anche se vi sarà sembrata un'esaltata di prodotti di Kiehl's. Vi aspetto alla prossima recensione e fatemi sapere se ci sono prodotti che volete che io vi licenzisca. Un bacio e al prossimo video.